Amici di Passione Tennis, ho provato prima a fare un video ma non me l'ha caricato, probabilmente perché è troppo grande, faccio un video allora velocissimo. Allora, saluto intanto Gio Cozzo che mi ha richiesto il video, altrimenti non l'avrei fatto questo video proprio al volo, anche perché l'ho dovuto rifare, quindi lo stiamo rifacendo. Quindi niente, per la prima volta nella storia ci sono nella stessa settimana tre finali, quindi due ATP e una WTA con tre italiani in finale. Tra cui un 250 ATP, un 500 ATP e un 250 WTA Palermo, perché chiaramente tra la Paoletti e, sì Paoletti, tra Jasmine Paolini, Paoletti perché secondo me diventerà fortissimo, ecco perché mi è venuta la Paoletti. Comunque tra Jasmine Paolini e la Bronzetti. Il 250 quindi con Berrettini in finale che non era affatto facile, perché Berrettini ricordiamo ha praticamente saltato tutta la terra abbattuta, poi è arrivato sull'erba. Poi il Covid, quindi post Covid, arrivare in finale anche Agstad, che secondo me lui l'ha fatto più per prepararsi sul cemento e andare a giocare sulla terra. Però, perché ricordiamo che è meglio giocare prima sull'erba, poi sulla terra e poi sul cemento per le gambe. Quindi probabilmente l'ha fatto per questo ed è per questo che è andato in un 250 per poter fare più partiti possibili. Tra parentesi vincerebbe tre tornei di seguito dove ha partecipato, perché Wimbledon non ha giocato, e in più farebbe tre doppiette, perché ha vinto due volte Stoccarta, due volte Alquins e due volte, quindi vincerebbe Agstad perché ha vinto l'altra volta che nel 2018. E c'è la prima volta di Lorenzo Musetti in finale ATP, una prima volta importante perché è un torneo 500, quindi lui già andando in finale ha preso 300 punti ATP e probabilmente se la vedrà con Alcaraz. Quindi in tutte le finali comunque gli italiani sono sfavoriti, perché ricordiamo che Berrettini contro il norvegese Rud, quindi se la vedrà con il finalista di quest'anno del Roland Garros, quindi mica nulla. Musetti se la vedrà con Alcaraz, probabilmente già numero 5 del mondo se vinci il torneo numero 4, e comunque dall'altra parte invece nel torneo di Palermo probabilmente la Begu, quindi chiunque andrà fra la Paolini e... Insomma, probabilmente la Bronzetti comunque sarà sfavorita. Chiudo subito perché sennò non me lo carica. Ciao a Giocozzo, ciao a tutti voi che mi seguite, lasciate like, iscrivetevi, continuate così. Ciao, ciao ragazzi!